Senti, no, è un po' imbarazzante perché noi non siamo proprio giornalisti, anzi non siamo per niente. No, un po' po'. Dunque, magari ti chiederemo noi come secondo te dovrebbe essere un programma per i giovani sulla musica? Secondo te che cosa ci dovrebbe? Cosa manca, almeno quello che c'è già adesso. Cosa c'è già, ecco sì. Ma secondo me non manca molto, però qualcosina manca per arrivare a un certo livello. Ah, di che cosa? Io parlo più che altro della televisione italiana, quindi rispetto per esempio a quello che succede in America, dove ci sono 5 o 6 canali specializzati in musica, trasmettano solo quella. In Italia oggi c'è soltanto praticamente videomusic, a parte qualche tv locale, ma di nazionale c'è solo videomusic che tra l'altro, tra poco, avrà anche dei cambiamenti. Sua figlia è lì in mezzo, ma lei piace Masini o è venuta solo per accompagnarla? Sì, mi piace. Dalle 4, dalle 4. È dalle 4. Perché Marco ti fa impazzire. Ah, infatti. No, un amore. Scompagnatori o fan? Che non hanno gli altri che noi. Amo la musica, amo la musica. Da cantare, da cantare. Ma per esempio, esprime venditti, pennato, queste altre. No, no, no. Sì, ma Marco riesce, cioè, proprio cantando riesce ad esprimere tutto quello che ha. Ti piacciono le parolacce che dice? Sì, perché... Sì, perché... Sì, perché... Sì, ma a me ti riuscite. Ma a me ti riuscite con... Sì, 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 ma a me ti riuscite con... Cioè, va a far culo, bella strontata, queste cose qua ci vogliono. Anche quelle veloci, non solo quelle malintoniche, ho capito. Lui sa fare tutto, tutto. Che cosa tutto, questo tutto che cos'è? Perché canta, infine, è con tutto. Ma canta, ma non... Cioè, lui nelle sue canzoni... Esprime quello che vorremmo esprimere, non è che non possiamo fare, ho capito. Ha influenzato, per esempio, sul palco, lui che è un grande trasformista, un... Ma io stimo molto Renato perché secondo me è un grande... È un grande personaggio su tutti gli aspetti, umanamente e professionalmente. È chiaro che quando avevo 16 anni lo seguivo con grande ammirazione e rimanevo incantato da...